Seconda parte di RTA Sport dedicata all'MT OMA e all'ABF Monfalcone. Iniziamo quindi subito a parlare con Mauro Zinnanti, presidente dell'MT OMA. Ecco, presidente, per te una vittoria che vale la salvezza. Ci credevi? Assolutamente sì. Pensavo in tutta sincerità che avremmo chiuso con la salvezza un po' prima, ma forse addirittura evitando il girone dei play-out. Ma comunque va bene così, assolutamente. Come hai visto questa formula dei play-out? Questa formula dei play-out diciamo che l'ho vista come un'incognita, come sono sempre queste code di campionato. Evidentemente c'è una volontà a monte della federazione di ridurre un po' il numero delle squadre della Serie B e quindi abbiamo dovuto accettare un po' così forzatamente questa situazione. Devo dire che soprattutto nel giro di ritorno l'OMA ha fatto un buon giro di ritorno e abbiamo fatto anche un dischetto pacchetto di punti. Non è stato sufficiente per avere la salvezza da subito senza arrivare ai play-out. Ecco, diciamo, campionato stagione regolare divisa in due parti. Una prima parte non proprio positiva, la seconda ovviamente migliore, come dicevi. Come ti spieghi questo ondazzo della squadra? Ma diciamo che abbiamo avuto un girone d'andata assolutamente al di sotto delle aspettative per tutta una serie di situazioni contingenti. Abbiamo avuto anche alcune infortunate che sono infortunate proprio nel corso dell'andata. Abbiamo avuto un rientro a pieno titolo della nostra Milic che tornava da un lungo infortunio e quindi con tutte le incognite che questo comporta a livello di rendimento complessivo perché non aveva i minuti per fare un'intera partita. Quindi tutta una serie di situazioni che hanno comportato questo girone di andata un po' di sotto delle aspettative. Non ultimo il fatto che a livello di mercato estivo effettivamente la squadra è uscita fortemente indebolita. Passiamo quindi a parlare di ABF Monfalcone con Fabio Banello, il coach della formazione bisiaca. Per voi parliamo quindi della semifinale di playoff promozione. Avete perso a Perugia di 4. Parlaci della partita. Sì, abbiamo perso di 4. Potevamo anche portarla via questa partita perché a 3 minuti della fine eravamo a più 7. Siamo partiti Maluccio, Fiacchi, loro ci hanno aggredito e nei primi due carti siamo andati sotto i 12 punti, 41 a 29. E il terzo quarto è venuto fuori l'ABF con un parzialone di 21 a 9. Abbiamo rimesso la partita in careggiata. Abbiamo difeso molto bene sia a uomo che a zona. Abbiamo avuto pazienza contro la loro zona dove in questa zona, in questo tempo qua, Battistella e Croce hanno fatto le giganti da fuori e bersagliandole da 3 punti. Il quarto tempo, sono partite loro un po' 2-3 punti avanti, poi abbiamo fatto noi il break e abbiamo tenuto 7 punti fino a 3 minuti. Poi stanchezza, sia la Degrassi che la Suster si è durata fuori per falli. Eravamo un po' piccolini, siamo un po' chiusi in area e loro comunque hanno preso rimbalzi perché hanno questa Lepri che è una bella, un bel pivottone. Hanno fatto girare la palla e hanno fatto questo parziale e eravamo a 6 punti fino a 10 secondi dalla fine e poi noi siamo riusciti a fare un canestro all'ultimo secondo e quindi a portare a meno 4. Sì, abbiamo perso ma forse sono contento perché le ragazze a questo punto non partiamo con un vantaggio ma con un svantaggio. Quindi penso che fin dal primo minuto saremo pronti via, saremo noi a cacciare le ragazze di Perugia perché vogliamo subito recuperare il gap e magari anche allungare il gap tra noi e loro. Un risultato quindi a partissimo e poi voi in casa anche avete una forza visto che per il momento siete imbattute. Sì, infatti i risultati ci danno ragione che in casa non è passato nessuno da Udine e nessun altro però c'è sempre la prima volta speriamo che non sia sabato 7 maggio la volta che perdiamo in casa e il nostro canestro, conosciamo il campo poi per quello che so ci sarà una marea di gente a vedere la partita perché è molto sentito la canestra di un falcone il maschile sta andando così così mentre il femminile sta tirando sulla testa. Quindi io spero che sia una palestra veramente piena di colori bianco e blu come abbiamo detto, abbiamo fatto nell'evento che si vestono di bianco e di blu la onda bianco-blu. Un fatto, il fatto che tutte le squadre praticamente del Trivento stanno andando avanti come reputi? Ma guarda, io ho parlato sia con l'allenatore di Usmate che con quello di Perugia e sempre, anche negli altri anni il Girone Triveneto ha sempre portato delle buone squadre dei buoni giocatori effettivamente il Triveneto e vediamo che sono tutte e quattro abbiamo passato il primo turno praticamente Muggia ha vinto fuori casa San Martino di Luperi ha vinto di 40 in casa Udine ha vinto di 14 noi abbiamo perso di 4 potrebbe essere una bella sorpresa che tra le prime 16 intanto siamo 3 del Friuli e 4 del Girone Veneto però io penso che potremmo essere anche magari 3 nelle prime 8 che si giocano i play-off e speriamo Stiamo quindi a parlare dell'MTU ma con il presidente Mauro Zinnanti ora quale futuro si prospetta per la tua società? Beh, diciamo che la volontà è assolutamente quella di consolidare la società e la squadra cercando di evitare i patemi di quest'anno ma puntando a fare un campionato un attimino più tranquillo un attimino più sereno e con una squadra un attimino più forte e più completa in tutti i reparti dove quest'anno effettivamente qualche problemuccio l'abbiamo avuto Stai pensando a delle eventuali collaborazioni con altre realtà del territorio? Qui lo dico lo dico anche all'amico allenatore di Monfalcone noi da questo punto di vista non abbiamo precuzioni verso nessuno anzi la volontà è quella di collaborare di collaborare con tutti cercando di far crescere complessivamente il sistema del basket femminile regionale che come correttamente ha detto Banello è un sistema che ha una sua tradizione ha un suo presente e ha sicuramente un suo futuro Stiamo quindi a coach Banello stai guardando un po' l'altra semifinale chi preferresti avere in caso di passaggio del turno? Dall'altra parte? Sì Allora Catania penso sia più devoluccia però mi pare qualche mille passa chilometri e quindi è molto più dura arrivare fino là Roma è la prima Stelle Marine è la prima del Lazio e sentendo anche le ragazze di Udine di Udine sono due squadre toste proprio veramente sono quello che ho sentito dall'amico di Perugia sono squadre che puntano veramente a fare il salto di qualità sicuramente Roma è più vicino e si è anche più forte ma il basket è bello perché è vario e perché no ce la giochiamo fino in fondo dopo dove si va si va intanto la nave sta veleggiando e vediamo in che porto ci fermiamo Che clima hai trovato a Perugia? Ma a parte i simpaticissimi perché avevo anche dei tifosi perugini visto che mio fratello ha giocato anni lì a Perugia ma devo dire che all'inizio erano più tranquilli poi come hanno cominciato a prendere questi il bello era del basket questo che hanno preso qualche punto quindi gran confusione infatti abbiamo dovuto anche cambiare un po' i gesti dei schemi perché non si sente non si sentiva niente poi sono subiettati i nostri tifosi quando noi abbiamo preso e devo dire che avevamo dieci tifosi che valevano per cento e sono fatti sentire poi naturalmente alla fine hanno vinto loro però correttissimi e devo dire anche il livello dell'arbitraggio un livello superiore di quello che si fa che subiamo durante il campionato Per ribaltare il risultato secondo te cosa servirà alla tua squadra? La nostra solita difesa la tranquillità che abbiamo sempre avuto anche quando siamo andati sotto abbiamo vinto delle partite che eravamo sotto abbiamo saputo le nostre possibilità come le rotazioni le abbiamo mai metabolizzate abbiamo fatto delle modifiche a causa degli infortuni che abbiamo avuto in questo mese la nostra tranquillità solita e la maturazione che abbiamo avuto quest'anno veramente io penso che possiamo giocarcela e in settimana naturalmente cercheremo di tarpare le ali alle loro bocche da fuoco ecco questa formula è il miglior delle due partite a differenza a Canesti diciamo a me piace per tutti tanti sono lamentati di questa sì ma visto che la partita gioca 80 e non 120 gli giochi in 80 e quindi è molto più concentrato e molto più teso la vivi di più? la vivi di più? sì molto di più e mi piace se anche una gastrite ultimamente no scherzo adrenalina adrenalina no a me piace mi piace di più che la terza partita favorisci quello che ha miglior punteggio quello che non capisco è perché le prime del girone non vanno non devono essere promosse direttamente dopo aver pianificato speso e rischiato e tutto il resto so che vanno solamente quattro in serie A perché hanno ridotto i gironi però mettiamoci nei panni dei dirigenti del presidente che fa sforzi per arrivare a queste due infortuni due stupidaggini e rischi di buttare via un'annata dove l'hai dominata o l'hai stravinta questo forse ho un po' di dubbi però le doppie gara sui 80 minuti a me sta benissimo però ti porta un po' di stress sì un po' tanto eh vabbè se no tutti quei milioni che prendo a Monfalcone li spenderò li spenderò per qualche gastroprotettore anche perché dicevi che organizzare una trasferta così lunga dopo anche diventa impegnativo poi in realtà diciamo delle statistiche sì esatto noi siamo piccoli quindi abbiamo organizzato la trasferta e siamo ripartiti la sera prima le ragazze volevo che a parte diciamo così l'evento cestistico volevo anche un evento diciamo così che le ragazze si ricordassero di questa esperienza visto che hanno che hanno giocato per dieci mesi sotto le mie sgrinfie hanno subito i miei urli e non pochi sì non pochi si sono divertite penso anche ho visto anche in panchina molto più molto più partecipazione a parte anche delle ragazze che giocano di meno e devo dire che oggi abbiamo allenamento i primi dieci minuti io non dirò niente solo le guarderò vediamo chi parla per prima e cosa mi diranno loro bene noi siamo giunti alla conclusione di questa puntata di RTA Sport ringraziamo Fabio Banello coach dell'ABF Monfalcone e Mauro Continanti presidente dell'MT OMA per essere stati con noi buonasera a tutti